Il treno Intercity 506 di Trenitalia proveniente da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Torino Porta Nuova delle ore 10 e 27. È in arrivo al binario 2, ferma a Rapallo, Genova Brignole, Genova Principe, Alessandria, Afti, Torino Lingotto. La prima classe è in testa al treno. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity 506 di Firenze Santa Maria Novella a Torino Porta Nuova sarà in arrivo al treno 2. Il treno Intercity 506 di Firenze Santa Maria Novella Il treno Intercity 506 di Firenze Santa Maria Novella Il treno Intercity 506 di Firenze Santa Maria Novella a Torino Intercity 2506 di Firenze Santa Maria Novella a Oriental campo. Grazie a tutti.